ciao a tutti oggi un video extra con un po di musica già vi avevo fatto sentire qualche canzone qualche giorno fa e oggi ve ne faccio sentire qualche altra la prima è una mia canzone è candy dark e non vi sto a descrivere il testo se capite l'inglese capite già cosa dice questa canzone mi era stata censurata più volte su youtube speriamo che non me la censurino ancora comunque è una di quelle che mi hanno permesso di andare a suonare anche fuori dall'italia erano circa sette anni che non la cantavo ma va bene così vi dico che come l'altra volta queste sono tutte registrate buona la prima anche se non anni che non le suonavo quindi se ci sono imprecisioni perdonatemi la seconda canzone è bella lugosi is dead già ve l'avevo fatta sentire anche questa qualche giorno fa ma ci sta dentro bene dei bauhaus quindi una cover ma fatta a modo mio la terza canzone è voyeur anche questa mi era stata censurata perché parla di un guardone che di notte si aggira nei parchi a guardare da lontano le coppiette ma poi voglio toccarti voglio baciarti ma sono troppo timido e allora insomma avete capito di cosa parla questa canzone e l'ultima è until the morning light comes ovvero finché arriva la luce della mattina e parla di ballare ballare fino alla mattina se sentite su un impianto possente fa venire davvero voglia di ballare e adesso via con le canzoni buon ascolto e buona visione oh yeah ballare Grazie a tutti. 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 I'm dead. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I'm dead. I'm dead. I'm... But there's... I'm... 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 I... I'm... 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 I'm...